Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video, è passato un minutino dall'ultima volta che ci siamo visti per chi non mi conosce invece io sono Cristian, fotografo e filmmaker professionista oggi voglio portarvi un tutorial su Da Vinci Resolve, faremo un po' di color, vi spiegherò un paio di trucchetti simpatici per ottenere un'immagine da così a così in veramente pochissimi nodi, cose super semplici quindi se siete interessati a queste cose, siete filmmaker, vi piace Da Vinci, fotografi e tutte queste cose qua vi ricordo di lasciare un mi piace per aiutarmi con l'algoritmo, iscrivervi al canale e attivare la campanella per i prossimi video detto questo non sprechiamo altro tempo e andiamo a vedere cosa facciamo oggi ok ragazzi allora eccoci su Da Vinci, la prima cosa che dovete fare è andarvi a scaricare questa clip qua la trovate sul sito di Blackmagic, vi ho lasciato il link in descrizione, il primo link che trovate così potete seguire questo tutorial mentre facciamo la color e non solo guardare mentre voi fate questo, intanto io vi preparo il node 3 saranno 10-12 nodi, insomma dipende da quanto in là vogliamo andare ma penso che più o meno quello sarà io solitamente mi preparo già tutti i nodi che mi servono se ovviamente so già quello che voglio fare e riordino già tutto quanto prima di cominciare allora il primo nodo sarà nostra noise reduction, poi abbiamo l'esposizione cst, se non sapete cos'è non importa poi vedrete, bilanciamento del bianco e poi qua abbiamo contrasto, boost e grade queste sono più o meno le cose principali, poi sotto ci arriviamo dopo prima cosa da fare, cst, andiamo su effetti, cst sta per color space transform quindi andiamo ad applicargli questo effetto qua e qua andremo a inserire gli input e gli output che vogliamo allora l'input sappiamo, se guardate anche nel sito è una Blackmagic Pocket 4K e come vedete ha già cambiato il profilo colore Blackmagic Design 4K Film Gen 4 qua mettiamo Rec 709 e qua mettiamo gamma 2.4 ok e questo è fatto dopodiché come potete vedere prima abbiamo l'esposizione perché adesso una volta convertita la nostra immagine andiamo a regolare la nostra esposizione è fondamentale farlo prima così che non andiamo a distruggere un po' la nostra immagine così è molto più omogenea ok allora prima cosa che farei è alzare leggermente il gain gamma possiamo dargli un po' così e anche i neri possiamo anche farli clippare leggermente così niente di che cosa molto semplice però comunque come potete vedere ha fatto il suo il nostro waveform è un po' più espanso e secondo me abbiamo già un buon range dinamico bilanciamento del bianco come potete vedere qua non c'è nulla di particolarmente bianco quello che vado a fare solitamente è focalizzarmi sugli skin tones in questi casi e gli occhi suoi che qua sono giallini e a meno che non abbia le patite non dovrebbero essere così questo possiamo vederlo anche col nostro qualifier attivate il qualifier poi tasto destro del mouse e show picked rgb value ok qua ci fa vedere i nostri rgb e come potete vedere sono rossi e verdi quindi sul giallino e c'è poco blu quindi quello che è da fare qua secondo me è andare a dare un po' di boost di blu e leggermente magenta non serve che sia perfetto perché poi comunque possiamo tornarci su e così va già va già un po' meglio ok cerchiamo un frame magari un po' più ok questo qua secondo me così non è malissimo se andiamo a vedere i suoi skin tones sono un po' spostati sul giallino ma quello poi secondo me lo possiamo lo possiamo vedere dopo con calma e comunque siamo molto molto meglio rispetto a prima contrasto qua diamo un'altra occhiata a quello che è la nostra immagine io qua sinceramente gli darei leggermente un po' di contrasto qua così cerchiamo un frame che sia che teniamo qua ok eccolo qua leggermente un po' più contrasto come potete vedere qua sul viso qua sulla giacchetta ok molto molto meglio poi abbiamo il boost il boost è una parte fondamentale qua andremo a regolare skin tones il blu andremo a regolare diverse cose prima cosa da fare sulle nostre wheels andiamo in log e spariamo i nostri mid tones sul rosso ok col low range poi andiamo a regolare cosa vogliamo prendere ok io direi un po' di meno qua un po' esagerato ok già meglio e poi con i nostri rgb mixer andiamo a regolare tutta la nostra immagine qua se non capite non vi preoccupate è solo questione di esperienza provare e e soprattutto vedere cosa fa una cosa vedere cosa fa l'altra e trovare un punto di un punto in cui siamo contenti di quello che vediamo ok qua il mio goal è quello di regolare questo blu qua regolare e regolare i suoi skin tones quindi la sua pelle vedete che comunque non è perfettamente appunto iniziamo dal blu e direi che già così ha tutta un'altra faccia ok verde ok 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 e infine il rosso ok e già qua direi che siamo a un ottimo un ottimo risultato prossimo nodo andiamo a fare la nostra vera e propria color grading ok quindi torniamo nelle nostre wheels sempre su il log e qua possiamo sbizzarrirci come vogliamo io so il risultato che voglio ottenere quindi andrò diretto su quello offset andiamo e spingiamo verso il giallo assolutamente così va va più che bene highlights andiamo sul blu così sull'azzurrino così mezzi toni verdi e ombre andiamo sul viola possiamo spingerlo bene dopodichè andiamo a regolare sempre con low range e high range le i nostri valori ok e qua così ok un vero schifo assolutamente sì però dovete fidarvi del processo in questo nodo qua andiamo a pulire un po' le ombre io lo solitamente lo chiamo adjustment ok voi potete chiamarlo come volete andiamo nelle curve sat vs sat e praticamente da qua ok tutto quello che è nero ce lo ce lo regola come vedete qua non è granché ma sicuramente aiuta i prossimi due nodi invece il 9 e il 10 ci sono nodi fondamentali in cui andiamo a creare il vero e proprio look e qua usiamo un trucchetto che per qualcuno potrebbe essere un po' imbrogliare ma secondo me ma secondo me no perché andremo a usare tutte cose che sono dentro da vinci e quindi se sono all'interno del programma non c'è nessun cheating da parte mia quindi questa è come la vedo io poi voi fate quello che volete torniamo a mettere anche qua un color space transform ok e qua gli andremo a dire che il nostro input input gamma è un rec 709 quindi è un'immagine già pulita e il nostro output invece è un harry log c come vedete ci ha reso la nostra immagine un po' un po' un mess un casino però va bene così nel prossimo nodo invece andiamo sulle lat lat interne di da vinci film lux e gli mettiamo il kodak di 60 come potete vedere tutta un'altra un'altra storia ok e ci avviciniamo a quello che è il risultato finale quello che è da fare adesso è semplicemente un andare a regolare il nostro boost perché la maggior parte delle cose che vogliamo cambiare sono qua tornando nell'rgb mixer andiamo a capire quello che c'è che possiamo migliorare e come prima andando a provare una cosa alla volta arriviamo a un'immagine che ci può piacere ok qua io metterai il vectorscope giusto per capire dove stiamo andando con i nostri colori e come potete vedere adesso i suoi skintons sono perfetti andiamo a regolare leggermente qua ok anche un po' un po' di meno così così e così altra cosa che possiamo fare è andare a regolare un po' l'esposizione da qua cosa ho fatto ok quindi tornerei a alzare leggermente le alte luci ok ok proviamo a vedere nel complesso come come dopo di che quello che possiamo fare è un altro nodo secondo me per andare a regolare questo blu qua che lo vedo un po' troppo intenso infatti anche sul nostro vectorscope come vedete è parecchio parecchio saturo curve hue versus sat andiamo a selezionare i nostri blu e abbassiamo leggermente la saturazione secondo me così va va più che bene e anche hue versus hue andrei a regolare un po' il tutto per separare ancora di più il nostro soggetto dal background vediamo ok direi che ci siamo l'ultima cosa che possiamo fare se vogliamo è andare a creare una maschera intorno al nostro soggetto ok così maschera circolare e possiamo dargli leggermente più contrasto quindi alzare un po' il gain e anche il gamma non di troppo e andare a chiudere ancora un po' un po' le ombre ok come potete vedere prima e dopo c'è una bella differenza e ovviamente andiamo a fare il track avanti e indietro per questa clip qua dato che lei muove un sacco la testa ricordatevi di disattivare il 3D perché altrimenti viene un casino e facciamo il tracking ok una volta fatto il tracking diamo un'occhiata un po' alla nostra la nostra clip vediamo come come siamo andrei secondo me ad abbassare leggermente le alte luci che qua sulla mano fanno un po' di un po' di casino ok e come ultima cosa noise reduction andiamo sul pannello della noise reduction io solitamente qua metto 3 faster a meno che non sia un progetto super super importante non supero mai 13 14 e qua sui 6 secondo me siamo più che bene infatti se facciamo prima e dopo come potete vedere fa il suo perché bene ragazzi direi che la nostra color è finita e abbiamo raggiunto un risultato davvero straordinario bene ragazzi spero che questo video sia stato utile che abbiate seguito tutti i passi uno alla volta se ci sono domande fatemele pure nei commenti che vi rispondo entro un paio d'ore noi ci vediamo alla prossima peace peace